La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro indagati nell'inchiesta per la morte di Daniel Testor, il turista spagnolo che perse la vita dopo essere stato colpito da un frammento di pietra serena staccatosi dal soffitto della Basilica di Santa Croce il 19 ottobre del 2017. La richiesta presentata dalla PM Benedetta Foti riguarda il presidente dell'Opera di Santa Croce, Irene Sanesi, la ex presidente dal 2007 al 2015 Stefania Fuscagni, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile, il geometra Marco Pancani. Sarà ora il Tribunale di Firenze a decidere se mandarli a processo. L'inchiesta era entrata nel vivo nel giugno del 2018 quando davanti al GIP nella formula dell'incidente probatorio fu discussa la perizia disposta dal giudice per stabilire le cause del crollo e se questo fosse prevedibile. I periti evidenziarono che il distacco del peduccio in pietra serena del Capitello non era prevedibile se non con analisi puntuali di monitoraggio specifico e in assenza di queste neanche un intervento di semplice restauro conservativo avrebbe potuto stabilire l'improvviso collasso dovuto al progressivo degrado del materiale lapideo e a sua volta causato dalle infiltrazioni d'acqua subite negli anni, circostanza questa contestata dalla difesa attraverso analisi svolte successivamente alla perizia. Secondo una perizia depositata dalla difesa nelle indagini, negli ultimi 15 anni l'opera di Santa Croce avrebbe speso almeno 20 milioni di euro per la manutenzione del complesso.